Inizia il match, vediamo il nostro Nash, passaggio gettonatissimo, controllato da Bill contro Laura che solitamente era al fondo del team, ma hanno deciso di riadattare la loro formazione contro il team BenQ2. Vediamo che Bill viene spinto verso l'angolo e trova ogni singola partita per uscirne, infatti ribalta la posizione, questa Laura che anche negli scontri precedenti ha mostrato una capacità incredibile in quanto a mix up e potenziale di comeback assolutamente enorme. Ma Nash non gli lascia scampo, la porta all'angolo, si scambia una presa, ricomincia l'offensiva di Laura, vediamo se Nash riesce a uscire, Nash e Bill, Sony Krumming faccia da un centimetro e con un calcetto in basso affonda nella difesa avversaria. Round 2 Riprendiamo il match, sfonda subito, vediamo se Laura decide di essere più offensiva, di non lasciare a Nash le opzioni che lo hanno portato alla vittoria nel match, command grab, inizia l'offensiva di Laura. Nash ribalta subito la posizione di vantaggio, ma Laura risponde con le sue stringhe e come una macro esegue la sua stringhe in modo perfetto, Nash all'angolo con pochissima vita, vediamo se c'è il comeback. E no, Laura tranquillissima con un jab si porta a casa il round. Uno pari, il team incita Bill, lo tranquillizza. Infatti subito, bellissima risposta di Laura, porta a casa un po' di danno, metta a schermo entrambi, provano ad avvicinarsi all'avversario, un paio di jab si scambiano ma è pur sempre danno, siamo più o meno pari. Laura si avvicina, sprecando anche le barre. Scambiano qualche attacco, uh, bellissimo anti-air di Laura, uso perfetto delle normal. Nash sembra all'angolo, ha comunque il teleport in caso di emergenza, temo gli servirà e infatti eccolo, scivola via, inizia la sua offensiva. Critical Art! La sega in due, vediamo se Laura si riprende, anti-air intercetta tutti i salti di Nash, la prudenza e la chiave per la vittoria di questo scontro a questo punto. Mi raccomando, i grandi giocatori fanno di tutto, ah, la cancella e lo intercetta con l'anti-air. Bellissimo match, sudato fino all'ultimo, ma Laura si porta a casa la sua vittoria. Riprendiamo, Nekalli. E la risposta del team a questa Laura, vediamo se il team BenQ si riprende. Questo è uno dei match più importanti per il morale dei team. Se Laura si porta a casa un'altra vittoria, si tirano molto a sicuro, mentre invece Nekalli potrebbe parigiare la situazione. Nessuno esagera e Nekalli inizia la sua offensiva. Senza neanche accorgersene, ha portato la vita di Laura in una situazione quasi critica. Mentre Nekalli non sta subendo, nemmeno un hit. Ha il controllo completo del match. Laura all'angolo! Non c'è il perfect, inizia l'attacco l'offensiva di Laura. Scivola via con la reversal. Ottima lettura e il cross-up però va in trade. E Nekalli si porta a casa il primo round. Il primo round è andato abbastanza in un'unica direzione. Vediamo se Laura si adatta a questo Nekalli molto offensivo. E a pedate! Va avanti Nekalli sulle camiglie, nessuna pietà. Ricominciano le pedate. I next sempre safe. Ora i mix-up di Laura stanno arrivando. Mamma mia che combo! E si porta avanti con uno stun! Vediamo se Resetta o in... Un'altra combo! No Resetta! K.O. Bellissimo round! Uno pari! Trambi round sono andati o completamente a favore di Nekalli o di Laura. Quindi abbiamo capito che chi prende il controllo ha buone possibilità di vincere molto velocemente il match. Trade! E poi devo dire che da esterno che capisce veramente poco del combattimento, devo dire che sono veramente efficientissimi e soprattutto se ne danno come orbi. Sì, sono due personaggi, poi Nekalli è violentissimo. Nekalli ha letteralmente sprangato sulle gengive la povera Laurea. Non tira neanche più. Ora è finito round! Ed è un K.O., un K.O. Ed è qua il K.O. Che porta Nekalli alla vittoria. E siamo pari per il team. E intanto vediamo che il pubblico comunque viene e si accinge a vedere la finale. Il pubblico inizia a interessarsi al match. Assolutamente sì. Dovrebbe essere un mirror match questo. E infatti Nekalli contro Nekalli. All'angolo blu abbiamo il Nekalli blu. All'angolo rosso il Nekalli rosso. Ringrazio i giocatori per queste piccole attenzioni che ci danno in modo che sia più facile seguire il match per tutti. Quindi il team BenQ si porta il Nekalli rosso. Questo incontro che sarà a contatto due personaggi che hanno bisogno di lavorare sulla corta distanza, di far pressione, sarà molto avvincente. E subito lo spinge verso l'angolo il team BenQ. Prova a uscire ma la reversal impedisce il movimento. All'angolo, insiste. Uh, vi counter per uscire. Mi stabiliscono le distanze. Ma il team BenQ dice di no. E lo riputa all'angolo. Lo tratta malissimo. Ed è il primo che io ho. Il match riprende. Questa volta un pochino di prudenza in più. Anche se il team BenQ ricomincia la sua offensiva. Lo butta all'angolo senza pietà. Vick out per uscire. Iuta in faccia. Infatti cercano di non creare spazio, non creare movimento all'avversario proprio per dare la possibilità di creare più combo e più opportunità di sconfiggerlo. Sì, è molto importante stare addosso all'avversario e non dargli spazio di reagire. Specialmente quando entrambi i personaggi hanno possibilità di iniziare con un'offensiva devastante. Dopo la combo che va al mix up. Oh, attenzione, Super Saiyan per il team BenQ. E' un Super Saiyan, un Super Saiyan di fuoco, devo dire. Super Saiyan God. Esatto. Lo porta all'angolo, Command Grab. Vediamo un po'. Ed è sufficiente per portarsi a casa il match. Il team lo incoraggia. E i Grappler hanno un ultimo personaggio. Hanno il loro Grappler. Hanno Zangif, l'ammasso di muscoli. Ecco, Gif, onnipotente, già pronto ad abbracciare il nostro Necalli. Ma quanto è grosso, è imponente. E' gigante, Gif, per essere il più forte del mondo. E nonostante Necalli sia bello grosso e pompato. E' niente. E' niente, e' niente, e' niente. Gif è uso. Però mi sa che differisce da Necalli in velocità, probabilmente. E' un personaggio molto difficile da usare. Molto difficile approcciare un avversario come Necalli, che ha molte opzioni. Anche a distanza, devo dire. Tuttavia, una volta che Gif arriva, può fare davvero tanto danno. Il problema è arrivare. Il problema è arrivare, chiudere l'avversario senza dargli possibilità di... E' un perfect che io ho per i metalli. Spettacolo, spettacolo. Ma non vuol dire niente. Tutto può succedere. Tuttavia, lo schiaffo morale del perfect, cioè, non è facile gestirlo. Ma a Gif non gliene frega niente. Arriva con un paio di predate. Si arrabbia... Diventa rosso, lui. Rosso di rabbia e può assorbire un hit. Addirittura. E anche rosso di rabbia può assorbire un colpo e rispondere. Pugnazzo! E lo prende, lo abbraccia. Lo tira giù e quanta vita gli ha colto. Ma quanto danno. Lo abbraccia di nuovo. Di nuovo. Combo, combo di uno dietro l'altro. L'Aviat finale. Non è un perfect, ma ha dominato questo round. Come dicevamo, non dammo il momento di reagire a Necalli. Una volta che arriva Gif è difficilissimo da gestire. È un caro armato che non si può fermare. Specialmente all'angolo con Necalli che non ha teleport o quant'altro per uscirne. Riprende il match. Vediamo se Gif, carico, moralmente dal round precedente riesce a portarsi a casa la vittoria. Ma Necalli ovviamente non si arrenderà. Deve fuggire da questo angolo letale. Dove Gif può abbracciarlo. Si vede che ogni tanto tenta un abbraccio mortale a Necalli. Un abbraccio però. Necalli non è una persona già affettuosa, quindi scappa. Necalli ha detto anche i nove rasta. Nei contatti sono nove, non ci ho mai fatto caso. Sì, sono grossi e pochi. Esatto. Eccolo che lo prende. E vai. In pochissima vita inizia il comeback. Vediamo se è fatto di mix up. Lo frulla. Lo frulla. È un beat. Lo ferra mezzaria. Mamma mia. Che setup di combo. Vediamo. Uno stun. E c'è il comeback di Gif. Incredibile. Veramente bello e vincente devo dire. Questo Gif riceve sempre grandi consensi dal pubblico per un motivo ben preciso. E hype. Iniziamo. Con Ken. Pazzi risponde anziché col suo Bison. Con un Ken. Probabilmente mi sente più a suo agio nel match up contro un personaggio come Zangif. Con Yadou che può gestire un po' meglio gli spazi. I salti però vengono puniti da questo Lariat. Vedi che cerca di scappare da quest'angolo mortale perché ha paura appunto dei suoi affettosissimi abbracci. Esatto. Meno spazio c'è più è facile che Gif con una trappola ti abbracci. Era una pisellata quella. Sì ma di grande sia colpibilissimo. Ma Ken non approfitta questa combo cancellata con la Vskill. Porta Gif all'angolo che col B-Counter allontana Ken. Cerca gli attacchi a distanza perché... E arriva a combo e più de qua. Ecco qua. Il round. Infatti si vede che cerca la distanza per non dare possibilità di gioco all'avversario. Esatto c'è che la distanza dove Gif è ovviamente svantaggiato. C'è la media distanza o comunque da lontano. Invece Ken può avvicinarsi velocemente. E si vede che parte subito con combo una dietro l'altra. Un paio di abbracci. Subito un altro. Forse arriva lo stun. E siamo al terzo. Pochissima vita su Ken. Tuttavia non è ancora detto. Invece no una testata chiude il match. Mamma mia mamma mia. Di una furia impressionante stavolta. Zanghi non si arrende mai. Subisce in round dopo in pala. Testata su Yadouken. Perché non ce ne frega niente. Uh prova col Tatsu in ex. Tuttavia Gif ha una risposta a tutto. Cross up interoffensiva di Ken. Cerca di chiudere nell'angolo appunto per dargli possibilità di muoversi ma... Si separano subito. Se deve di avvicinarsi. Lo butta via. Lo butta via. Uh Tatsu abbracissimo. Mamma mia. O male per lui. O male per lui. Ma lo prende. E pazzi è fuori. Ken eliminato. Gif. Da spettacolo questo torneo. E vanno alla grand final. Un applauso. E da... Da pro. Da pro. Vince. Questo Gif che è un personaggio sottovalutatissimo. Nel torneo sta facendo veramente dei match incredibili. Tommi. Sì.